Quando immaginiamo un luogo, lo vediamo pieno di vita, città dinamiche, persone indaffarate, meravigliose distese verdi e tanti, tantissimi sogni. È questo il cuore di un territorio che vive. Ed è quindi importante far sì che ognuno di questi piccoli, grandi sogni possa trasformarsi in realtà. Questo significa crescere insieme, ricordandosi delle proprie radici ed affrontando il presente con lo sguardo rivolto verso il futuro. Banca di Pesaro, la banca del tuo territorio.